Grazie, Vali, grazie. Però ho il naso grosso, quindi me lo accentuano ancora di più. Dovrei tenerli più in basso. Sì, sì, è volo rossi. Mi serviranno per una cosa, ragazzi, questi. Quando mi faranno PC quest'estate con i Rezzen 3000, farò delle cose nuove e questi faranno parte della scena, ovviamente. Non sono graduati, sono quelli, come si dice, per le luci blu. Ma a me, cioè, per il momento non cambia un cazzo. Dicono che ti fanno riposare gli occhi. Boh, io non ho mai messo gli occhi nella mia vita e sinceramente sto bene anche senza. Bella, Flimdorus! Che sesso, e la madonna. Ecco, già ho detto, sono partito con sta frase, già demonetizzato il video. Dovessi mai finire sui fieri cancut. Non so se infilarci questo, il Doran's Ring, sinceramente. Pur Darkseal non scherza. Facciamo così. Ma sì, dai. Assomiglia a sola. Metteremo secondi in questa casa di merda! Ne sono felice, Flimdorus. Ragazzi, ricordo che se vi abbonate, abbiamo anche il server privato per i sub. Ecco. Con Jackson Cut. Gazzineone tra un po', perché... Dovrà uscire tra un po'. O se la metto tipo come episodio speciale, a caso, ti faccio la copertina. Sapete cos'è che mi manda? Bella Raxor, wow! Grazie mille del resab! Bentornato a Ferixarmi, bro. Eh sì, sono per i sub. Bentornato, Raxor. Grazie mille del resab. Vi dicevo, una cosa che vi manca, ragazzi, sono i commenti delle persone indignate. Vi ricordate quelli? Ferix, prendi per il culo di Iron. Se vai al tuo elo, ti aprono il culo. Sei bustato, quelle cose lì. Oppure prendi per il culo i bambini a un adulto come te, mi fai pena, quelle cose lì. È da tantissimo che non ricevo più commenti indignati così. Allora sto pensando, dovrei sfruttare quel game in cui faccio, letteralmente, 50 kill con Jax. E tipo fare una cosa, tipo mezza... Aspetta che qua... Eh, eh! Potrebbe esserci Trandol. Spero anche Trandol non faccia... No, sta pullando, ok. Eh, un po' mi manca sta cosa. In conseguenza... Tuk. Adesso lo infastidisco, guardate. Tuk. Ha troppo sustain, ragazzi. Non gli faccio nulla. Dai, Soraka di banana. Dai, di banana, Soraka. Io comunque, raga, non so quanto riuscirò a fare, ve lo dico. Cioè... A lui non gli tolgo, ovviamente, nulla. Non l'ha preso. Ma che banane di tiro! Dagli il bro di banana! Eeeh, sì, Trandol, sì, così. I vocali sono disattivati. Oh, cacchio. Ah, dopo li attivo, ragazzi. Adesso fatemi farmare. Non voglio perdere CS. Per i vocali. Stia lì, stia lì, signore. Stia lì. Già finito il mana. Vado, voglio fare il rom da qualche altra parte. Mondo, cazzo sei. Ah, proprio se l'è data, così. Torna di teleport. Ha fatto tutto un gran casino. Ha beccato perché ha finito il mana. Eeeh, così. Se la neve viene sotto casa vostra, vaffanculo la neve! Non fa piacere, mi dà soltanto fastidio! Bella Sarus! Grazie mille del ReSub, carissimo. Bentornato nella FierixArmy, bro. Bentornato. Purtroppo lui non subisce molti danni, come potrete ben capire. Oh! Aia. Ripperoni. Il Malfight Teronas. Eh, Teronas è leggenda, ragazzi. Sì, Teronas è leggenda. Ecco. Va che non funziona così, eh. Cioè, per carità, ho capito che ti faccio pochi danni, ma mo' non è che puoi completamente ignorarmi. Te lo assicuro. Oh, comunque, dà fastidio, stracca top, eh. Mamma, se dà fastidio. Dà fastidio, stracca top. Però non fa molti danni. Purtroppo ha anche dei difetti. Hashtag do it for Teronas, by the way. Ricordatevelo sempre. Vado back adesso? Trandole è qui. Dove è andato Trandole? Ha beccato di nuovo, non me lo dire. Eh, dovevo andare di clepto, c'hai ragione. Eh, però la Comet è bella. La Comet è la Comet. Sapete che io ho un debole per questa reuna. Comunque sì, eh beh, io penso, intanto penso di essere contro Rengar. Pensavo a Rengar top e Trandole Jungle. Che cazzo gioca Trandole top nel 2k19? Avvero non lo so. Lui. Con Ignite e Teleport. Guarda che allenamento di farming con le banane qua. Questo lo prendo così. Non voglio rischiare. Vai, devo iniziare a... Quando vedo che gli alleati stanno per fare delle kill, devo iniziare a ultare per le stack. Ma... Guarda che non è... Non mi sta ipoccando con questa cosa. Non so se lo sai. Ecco qua. Pia te... Due pizze. Pia te ste pizze. Pia te ste pizze. Pia te ste pizze, bro. Ecco. Andiamo back adesso. Ah, quante pizze si prende questo. Ok. Lost chapter. And let's go. Eh, quello è veloce. Comunque la Q non è facile da ettare. Comunque la Q non è per nulla facile da ettare. Do it for the Ronas. Niente. Very good. Uddio, farmato di autoattacco. Sì, così. Ah! Non hai il mana per ultare, sì. Pia te vena ulti così per bellezza. Andiamo via per adesso. Dai! Assist, signori! GG! Bonus to assist! Perché non full AD? Perché full AP? Ecco perché. Pushiamo questa, così. Così c'ho i soldi. C'ho i soldi per prendere anche il pezzo 8,50. Eh! Dai, figlio di puttana! Mamma mia. Comunque la Q è veramente difficile da ettare. Io non pensavo. Pensavo fosse molto più facile. Vabbè. Ci accontentiamo lo stesso. Potevo non morirci lì. Però gridato. Volevo quel farm per prendere questo. Bella Johnny! Ero tre livelli sopra oltretutto. Però Stracca non ha dei danni da poter fare qualcosa. Purtroppo. Io vorrei che aumentassero i danni di Stracca. C'è tanto, voglio dire. La gente lo userebbe comunque per cura. Quindi. Aumentano i danni, così io ci trollo. La faccio full AP. E agli LCS continuano a usarla. Cioè agli LCS. I Naighe lo continuano a usarla. Agli LCS non si usa Stracca. Bene a 300 di ping. Oddio, l'ho preso. Adesso posso spammare la Q. Ho abbastanza mana per spammare. No, comunque fa poco danno. Eh. L'ho salvato. GG. Oh, piatelo. Piatelo. Bravo. Oh, ma quanto è veloce. È velocissimo. Ma è velocissimo. No, non c'è Mavri. C'è Peppe Tegame oggi. Che arriva dopo, però. La domanda è in 1v1. Mi ammazza lui, così. Io non c'ho la ulti. Prendi un po' di schicchere. Tieni un po' di schicchere. Tieni. Bisogna di cooldown action. Comunque. Perché letteralmente, guardate, la Q la spammate voi. Vedete, devo giocare un po' di predictor. Sì, però è troppo veloce sto tizio. Che è? Ah! Muori! Mamma mia, la soraca! La potenza delle banane. La potenza delle banane. The banana power, proprio. Very good. Get bananed. Rengar è bot, quindi. Io posso letteralmente fare il cazzo che voglio. No, no. Stai pure lì. Mem, 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 mem. Eh! Velocissimo! Sì? Boosted. I feel so boosted right now. Grazie, ma che vuoi far? Bella, Seroth! E ovviamente, ragazzi, per confonderla è quella Warden. Ovviamente l'avevate capito perché mi conoscete. Che era già calcolato. Grazie, Seroth. Benvenuto per nella Felix Army. Benvenuto, carissimo. Get bananed. Another one. Another one. Eh, questa è lì. Mi sa che non ci siamo capiti, Rengar. Oh, Gesù. Ottima ulti, comunque, devo dire. Riesco a prendere sta plate. Sì, 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 sì. Click. 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 Guarda lì che botte. Guarda che botte che tiro. Mamma mia, ragazzi! The banana power! Get bananed! Get bananed! Get bananed, signori! La ulti di Jinx. Get bananed. Quanto ti sei curato! L'ho detto che l'hanno baffata. La cuore, la cuore fortissima adesso. Ti cuore tantissimo. Cioè, guardate. C'è 200 HP ogni Q, ragazzi. 200 HP ogni Q. Poi non so se è ogni champion che è hit. Perché in due, scomm'è... No, scomm'è uno solo. Però c'è 200 HP ogni Q, ragazzi. Non fa tanti danni in sé. Non è che one-shotta, però... Veramente sicuro è un botto. 4000 gold. Mamma mia. Mamma mia, get bananed! La Soraka full AP. Questo, il Mejai. Mo' mi serve altro cooldown action. Potrei farmi le scarpe cooldown action. Però la zona mi... No, la zona mi serve, ragazzi. La zona... Mi serve assolutamente la zona. Cioè, capite che contro quel team non posso giocare senza zona. Mo' Ok, me va bene, ma c'è Zed. Zed Ranger, c'è più o poi. Jinx 5-1. Serve la zona con la redaction. Inleach bensì, lo capisco, eh. Però... Eh, non ho la ulti. Cacchio, potrò tipparli. Executed. Executed di Trynda dove, esattamente? Dov'è morto Trynda? Avessi avuto la ulti prima? Peccato. Ecco. Cioè, posso... Posso fargli l'uno... Oh, mo' faccio i danni, eh. Mo' ci stanno anche i danni. Mo' ci stanno anche un po' di danni, eh. Eh. Mo' con Ludens. Ci penso io. Bella, Teni. Bella, Ammon. Eh, vabbè, ma allora sei un po' stupido. Grazie, bolla 90. Grazie mille, bro, del sub. Bentornato da Felix Army, signor bolla. Bentornato. Eh. Oddio quanti. Boom. Scomparito. No, sono arrivate le zaccagne, signori. Vado un po' mid, mi sa. Qua c'è il... Esatto questo, ovviamente. È fuori questa? C'è una control fuori. Ragazzi, ma sapete che sta arrivando gente, vero? Boh. Diamo un'occhiata. No. Eh. Che c'è qui? Ah, sarà meglio. Hello. Mamma mia, raga. Quanti shutdown. Boom. Eh, 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 eh. Eh. Allora. Curami, guardate. Ah. Un po' di cure. Zed è ancora là. Oh, piatelo. Ecco. Inchiodato. Ah, già beccate. Già ora da andare. No, comunque... Mi sta piacendo abbastanza. Oh. Cacchio, potevo cuorare, effettivamente. C'è qualcosa di nuovo. Signori. Eeeh. 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 Paura. Zed ovviamente non si muove dalla sua Bidlin. C'ha 3000 gold. Andiamo back. Sembra un'ottima idea. Facciamo Insta la Zonia. Mmm. No. Non me la chiudo subito. Vediamo quando gli finisce la ulti. Ah! Ops. Si è curato. 25 stack di Mejai, signori. Bell'array. Bananed. Bananed all time long. Only bananas. Brava Vayne. Arrivo, ragazzi. Ah. 8-1-6. Beh, è troppo bella sta Soraka qua. Perché ve l'ho detto, non è che faccia dei grandanni. Però comunque... La cucciola di continuo. Poi si cura abbastanza. Cioè... Guardate poi quanto cura. C'è la doppia V all'uno. Però ovviamente... Scalando con la P. Oh! Troia. Mmm. Oh, allora! Eh? Eh? Se fa così? Eh? Se fa così? Soraka fa scappare tutti, ragazzi. Bravissima, Jinx. Torna indietro, esatto. Torna indietro, esatto. Ottima idea. Eh? Sono solo disfacenti le banane. Eh? 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 Oh! Oh! Attenzione, attenzione! Esatto, prendiamo un po' di vita a caso. Tanto c'è Soraka che cura. Guardate qua. Eh? Ah! Eh? Ah! Eh? Botte. Qualcuno qui? Eh? Otti... Ottimi chopper, devo dire. Complimenti. Andiamo a far boravello qua. Hello? Il Trynda, il Trynda. Aiutiamo il Trynda. Perché hai già voltato il Trynda? Ottima cura. Ma gli ho permesso di fare una kill. Caccia via. Eh no! Guardate quanto mi cura adesso. Oh! 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 Il Dark Harvest. Beh, però a me piace la Comet. C'è una bella animazione, dai. E poi se ti laccula, ti sembra perché la Q slowa. Quindi. Sparisce. Non potevo fare molto, non avevo la ulti. È ok, è ok. Non ho usato almeno Stopwatch perché tanto... Bella Zecchend! Grazie ReSav! Bentornato a FelixSav. I poveri due. I poveri. Schifo poveri. Grazie, ho avuto ritornato. Lextech. Lextech. Un po' complicato, sinceramente. Non mi sembra un ottimo acquisto. Eh, ottimo Vayne. Appena rinasco, ragazzi. Raga, però dovete resistere un attimo, mannaggia. Bravo, Trinda. Dammi le stack di Mejai, bravo. Minchia, ogni... Ah no, no, no. Ah, un minuto e v... Cioè, un minuto e tante secondi, va bene. Bella, Rikikotica. Brrrr. Brrrr. Eh. 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 Ecco, fatto. Oh, ma che è sta cura? Soraka che tiene tutti al loro posto. Acuccia, Bobby. Acuccia. Tutti acuccia. Regà. Quanto cazzo so forte. GG Soraka. Regà. Uno WC. Mamma mia. Ma avete visto come li ho tenuti a sedere? Porca troia, se li ho tenuti a sedere. Porca troia, ragazzi. Se li ho tenuti a sedere. GG Soraka. Direi di sì. Direi che me lo merito. Mi sembra il minimo, GG Soraka. Già, te viene a un. Via. Via. Eh. Tocca. Oppala. Eh. E... Oppala! Coraggio! Attenzione! Mamma mia! Mi sta piacendo un botto. To look! Allora, inizio a prendere un po' di danno dalla mia W adesso, però. Eh! Via! No, no, no! Botte, botte! Oh! Eh! Eh! No! Non avevo la ulti per un secondo! Era la pentakill con Soraka! Non avevo la ulti per un secondo! Era la pentakonsoraka questa! La pentakonsoraka! Bella, binomio perfetto, grazie almeno di questa piccola soddisfazione. Eh, criminal, non c'avevo nulla in quel momento. Cioè, volevo... Ero lì che stavo spingiando tutti i tasti! Lo stop ce l'ha rotto, non c'avevo più un cazzo. Vabbè, dai. Apprezzo comunque il sub di binomio, grazie. L'unica gioia in quest'azione. Cioè, oddio, ho fatto una quadra kill, eh, per carità. Però... Potremmo effettivamente far di meglio. Ehm... 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 Hello, nice girl! Hello! Hello, nice girl! Perché c'è una morte con... Con Gallium? Ma... Oh! Dopo vado anche da... Da Morgan. Perché è così vero? Vabbè, c'è mobility, giustamente. Vabbè. La Cugni quanto ce l'ho? 2-2. Ah, come Nasus, ok. Come la Cugni Nasus. Precisa proprio. Cacchio, avevo dovuto far... Avevo dovuto farla prima. Vabbè che distacco ormai ci sono, eh. No! Eeeh, dove vai? Tranquilli che ve punzecchio io, ragazzi. Venite che vi punzecchio. Ok, grazie della ulti... Tramble. Ottima ulti, Tramble. Good. Piatela! Bravo! Ma... Eeeh! Eeeh! 18-3-15, ragazzi. GG, VP, Soraka! Soraka carried, ha detto. GG. Mamma mia. Grazie, Lukebot. Bentornato. Ia testi mesiii! Ia testi mesiii! Grazie mille, Lukebot. Bentornato da Felix Army, bro. Grazie dei tre mesi. Mamma mia, signori. Ragazzi, ma mi ha sorpreso. Specialmente, sapete cosa mi ha sorpreso? Il 2v1 contrattando le Rengar. Quanto mi son curato con quelle Q. Quanto mi son curato con quelle Q. Quanto mi son curato con quelle Q. Aspettate. Ok, mi ho scritto al seno Peppe Tegame per sapere cosa fa. Una cassa! Welcome back to the fear of the sub. Bella frisbee. Grazie, bro, del re sub. Grazie dei sette mesi. Bello, bentornato in live. Mamma mia! Sono sette. Da J. Guardate qua. Guardate qua che Soraka mi ha tirato fuori. Bevi subito. Ecco qua. Prendetevi sta Soraka, ragazzi. Prendetevi sta Soraka. Ecco, è Peppe! È lui! T'avevo scritto la posta su WhatsApp adesso. Ma aspetta che entro... È cambiato un po' tutto, però...